A me ci sarà un piove di sacco, Giulia Chinello, allieva di Combat Academy e tre volte campionessa mondiale di arti marziali miste. Allora Giulia, com'è stato vivere questa esperienza? E soprattutto ti domando, visto che sei salita sull'ambulanza, ma sei tu la tipa giusta? Spero di sì, di essere io la tipa giusta. Ho intrapreso questa strada in quanto se mi metto nei panni degli altri, se io fossi nei panni di chi deve ricevere, avrei piacere che ci fosse qualcuno disposto a donare per me. Ascolta, lo sport sappiamo tutti che è sacrificio e che è anche una grandissima scuola di vita. Pensi che anche il donare possa essere una scuola di vita? Assolutamente sì. E allora che cosa ti senti di dire a tutti quanti i tuoi coetanei che ti stanno guardando adesso? Vi aspettiamo tutti a fare questo passo. Potreste essere di vitale importanza per qualcun altro. E quindi i tipi? Giusti. Sei il tipo giusto!